Cermite la lanciata! Dominio! Catturate e presidiate gli obiettivi! Prendiamo B! Così non va! Riprendiamo B e... Prendiamo C! Prendiamo B! Prendiamo C! Bravo! Riccardo! Temico! Paracomico! Prezzo bravo! No! Di secco! Siamo su Alfa! Attendere! UAP è avviato in giro! Siamo su Alfa! Attendere! Bersaglio a terra! Riccardo! Radar personale nel colpo! Aiuta la squadra! Presso bravo! Due amici di persi! Avanti! Abbiamo perso alfa! Abbiamo perso bravo! Prendiamo Presidente Bravo! Ricarico! Ricarico! Prendiamo Bravo! Container di carico! Nemici! Mi hanno colpito! Prendiamo Bravo! Prendiamo! Attacco il racconto lo delito! Arrivederci! E hanno due! Presente quegli obiettivi! Siamo arrivati a metà! C'è la vita a fare! Passiamo Charlie! UAP alleato in zona! Surgo B! Mi ha identificato! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Siamo arrivati a metà! Siamo arrivati a metà! Siamo arrivati a metà! Ricarico! Missile cruise alleato lanciato! Alba in mano nostra! Abbiamo perso, bravo! Perdiamo Charlie! Siamo colpita! Intervieni su Alba! Versaglio abitato! Nelico a Charlie! Bravo in mano nostra! Prendiamo C! Aiuta la squadra presso, bravo! Nemico! Container di carico! Abbiamo perso, bravo! Versaglio a terra! Prendiamo, bravo! Intervieni su Alba! Prendiamo B! Prendiamo B! Prendiamo B! Prendiamo B! Prendiamo C! Prendiamo C! Prendiamo C! Prendiamo C! Prendiamo C! Serve supporto ad Alba! Abbiamo perso A! Nemico! Prendiamo Charlie! a cadere perdiamo B UAB alleato in giro non cacciarli non cacciarli non cacciarli si chiudere alba in mano nostra aiuta la squadra per lui abbiamo perso bravo aiuta la squadra 1-1-1 UAB alleato in giro prendiamo bravo arrière rse rse capito coin Siamo bravo Siamo due, prendete quegli uffici Aiuta la squadra presso A E' in carico Permette lanciare Siamo bravo Lo ha eliminato uno Bravo in mano nostra Siamo bravo Siamo bravo Siamo bravo Al diavolo il buccio Prendiamo un bit Controlliamo Siamo bravo Siamo bravo Siamo bravo Aiuta la squadra presso B Siamo su Charlie Attendere Il nemico a Bravo Siamo bravo Nemico puletto Siamo prendendo Charlie No Non è a modo Siamo giupa Attenzione Grazie a tutti.